Due membri dell'equipaggio della Turkish Airlines sono stati rapiti a Beirut, in Libano. Il veicolo che trasportava il personale della compagnia di bandiera turca è stato bloccato da un gruppo di uomini armati che ha portato via un pilota, il suo copilota. A bordo del bus c'erano sei persone e l'autista libanese è sotto interrogatorio. Secondo i media locali il caso potrebbe essere legato al sequestro in Siria di nove sciti libanesi rapiti nel maggio del 2012. Le famiglie degli ostaggi accusano i ribelli e chiedono un intervento del governo di Ancara.